Siamo qui di nuovo, sono Pietruccio Montalbetti, sono qua a presentare il mio CD che è anche vinile, si intitola Niente. In tutti questi anni, oltre che aver viaggiato per questo mezzo pianeta, o anzi quasi tutto, però nelle foreste amazzoniche, in giro per il mondo, in maniera molto spartana, da solo, senza telefoni, senza niente, per capire certe cose, ho scoperto anche una mia vena letteraria. Ho scritto già, pubblicato quattro libri, il primo era Sognando la California, no, il primo era i ragazzi della Via Stendhal, il secondo era Sognando la California, Scalando i Chilimangiaro, il terzo era Io e Lucio Battisti e il quarto è 70 a 7000, ovvero io a 70 anni ho scalato la Concagua 7000 metri. Questa è una canzone che però si intitola Io Scrivo e fa parte di questo album Niente, quindi buon ascolto con Io Scrivo e una rivederci alla prossima settimana. Ciao a tutti e buona vita. Ciao! Sono arrivato forse a un bivio e nella vita intanto scrivo e tra un sentiero e un'autostrada Porto una lacrima e una spada Ma questa sera in conclusione Io posso star tra le persone Dire le cose che mi sento E intanto mi accarezzo il vento Adesso scrivo per chi Non vuol sapere perché Ho solo scelto una vita Tutta diversa tutta diversa da te Ed ora scrivo per chi E' nato con un destino Per chi cercava una perla E ce l'aveva e ce l'aveva vicino Adesso storia dopo storia Se non tradisce la memoria Ora non esco più di scena E la mia mente è più serena E oggi scrivo per chi Per chi ha vissuto con me Le tante storie d'amore Forse lasciate a metà Adesso scrivo per chi Non vuol sapere perché Ho solo scelto una vita Tutta diversa da te Ed ora scrivo per chi E' nato con un destino Per chi cercava una perla E ce l'aveva vicino Per chi ha vissuto con me Le tante storie d'amore Per chi ha vissuto con me Le tante storie d'amore Per chi ha vissuto con me Le tante storie d'amore